Aperto il bar figaro appena siamo arrivati sul giallo in realtà era pronto da un po' poi sai devi aspettare i vari protocolli, l'occasione giusta per partire questa è un'idea che avevo io da tanto tempo che era quella di avere una base operativa anche per le altre attività che svolgiamo come staff avendo anche il Circo Love che è una discoteca Spazio Web che sono degli studios che tra l'altro sono in onda sullo Sini TV con una bella trasmissione di live in streaming e con i miei soci qui c'è Daniele Collesi e Emanuele Marco Cardinali che poi tra l'altro è operativissimo qui, lo trovate dietro il banco del bar è quello bello, abbiamo fatto questa scommessa, abbiamo aperto questo posto che è stato leggendario, questo è stato un posto leggendario negli anni 70, 80 io me lo ricordo quando ero piccolo si chiamava Ariston, questo nome è così regale io in onore alla vecchia proprietà e alla storia che ha raccontato ho ottenuto un quadro che mi hanno lasciato gentilmente i quadri che ho allestito all'interno sono della mia amica Mara Cherry che ha prestato gentilmente delle sue illustrazioni il quadro gigante sulle scale che trovate invece è lo storico quadro che era dell'Ariston per mantenere un piede nella tradizione anche quello che mi fece scattare già da tempo la scintilla di rilanciarlo come mai Figaro? cercavo un nome che rimanesse in testa intanto quindi non avevo necessariamente la velleità di coniugare il nome alla città o a Rossini, però poi sono caduto su quel Figaro inizialmente ho pensato solo a Figaro, poi era un po' troppo presuntuoso allora ci ho messo Bar perché tanto è un bar l'attività è quella di un bar quindi Bar Figaro mi piaceva, suonava bene hai detto scommessa, infatti è un momento molto particolare per aprire un locale un momento non dei più felici per quello che è il bar e la restaurazione ma ci vogliono questi atti di coraggio sì, osare sempre io dico osare è importante, ci vuole coraggio e infatti è un momento in cui si apre e si è costretto a usare più il marciapiede che l'interno sì, però sai, arrivando anche la bella stagione c'è questa bella terrazza, ripeto e c'è un generoso esterno, perché non approfittarne quindi poi anche in Viale della Repubblica, qui a Pesero è anche bello star fuori quindi c'è anche un po' la voglia nei bar soprattutto di questo tipo di stare più fuori che dentro incontrare l'amico che passa, salutarlo sono dinamiche anche abbastanza consuete